Credo che Venezia sarà un ottimo luogo per la AC World Series regattare qui nel grande canale come la Formula 1 di Monte Carlo, non è un campo che uno può dire tutto aperto, però è un campo lo stesso, molto impegnativo, sarà una bella lotta in un stadio, credo che la vela deve essere portata al pubblico e non c'è un pubblico più tifoso che il pubblico italiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.